Spesso i consultori familiari sono associati all'interruzione volontaria di gravidanza. Questo lo leggiamo sui giornali, questo è spesso opinione pubblica. In realtà nei consultori familiari l'attività relativa all'interruzione di gravidanza, seppur importantissima, rappresenta solo il 4% della nostra attività. Un'altra grossa percentuale di attività è dedicata all'assistenza in gravidanza, però un buon 40% del nostro tempo e delle nostre energie è dedicato alla contraccezione. Da sempre la contraccezione è stata una necessità per le donne, però seppur oggi i contraccettivi che abbiamo a disposizione sono molti, sono efficaci e sono sicuri, per donne di ogni età esistono ancora moltissimi pregiudizi. Pregiudizi da parte delle donne, pregiudizi da parte degli uomini, pregiudizi da parte dei media, ma anche talvolta da parte degli operatori sanitari. E quindi il ruolo degli operatori e dei consultori familiari è quello di accompagnare le donne di ogni età ad una scelta consapevole. Abbiamo la fortuna di poterci avvalere di linee guida sulla contraccezione che abbiamo condiviso a livello regionale tra tutti i consultori familiari e soprattutto abbiamo la fortuna di lavorare in equip multiprofessionali, dove è possibile fornire un colloquio dove ciascuno può mettere in campo la propria professionalità e che si può arrivare ad una scelta realmente condivisa con la donna di quello che è il contraccettivo più adatto per lei in quel momento. Per cui possiamo accompagnare donne di ogni età a partire dall'adolescenza fino alla menopausa nell'ambito della contraccezione. E così è nostro compito proporre a tutti i metodi disponibili, quindi il preservativo, la pillola, la famosissima pillola di cui tanto si dice che recentemente ha compiuto 50 anni, ma anche la spirale, e soprattutto nuovi metodi, il cerotto, l'anello e il nuovissimo impianto sottocutaneo che da circa un anno abbiamo cominciato a inserire gratuitamente nei consultori familiari. Possiamo dire che la fantasia agli operatori dei consultori in questi anni non è mancata. Proprio nell'affrontare questa nuova emergenza, che è quella dell'immigrazione, quindi della popolazione femminile, abbiamo messo in piedi negli anni vari progetti, da quelli della multiculturalità a progetti specifici rivolte alle donne. In questo caso mi viene in mente un progetto ministeriale, in cui in Piemonte hanno aderito tre ASL, volto alla riduzione del fenomeno dell'interruzione volontaria delle gravidanze della popolazione straniera, con un'offerta attiva di metodi contraccettivi in alcuni ASL, anche gratuitamente, in altre ASL in termini di prescrizione e di monitoraggio. Un'esperienza che comunque ha creato anche laddove è finito, come tutti i progetti, che questo è un grosso limite, comunque una cultura, un'attenzione da parte delle donne straniere, che registriamo veramente su una maternità sempre più responsabile che passa attraverso una contraccezione.